Il Real Città di Paternò si rifà il look in vista della prossima stagione che inizierà con il ritiro pre-campionato di lunedì 1 agosto allo stadio Razio Raiti di Biancavilla. Un restyling completo soprattutto a livello societario che ha visto l'ingresso di nuovi soci ad entrare in società Francesco Di Perna che sarà vicepresidente. Con lui nell'organigramma anche Calogero Di Perna, Gaetano Gullotti e Marco Tripoli. La presentazione del nuovo staff societario è avvenuto ieri sera al Bar Tre Fontane, presenti tra gli altri il sindaco di Paternò Mauro Mangano, l'assessore allo sport Alfredo Minuto, lo staff dirigenziale tecnico della società paternese e la squadra al gran completo. Il restyling societario era un passo fondamentale per iniziare al meglio la nuova stagione, così ai nostri microfoni il presidente Ivan Mazzamuto. Quest'anno stiamo cercando di fare le cose per bene, per fare le cose per bene siamo partiti dalle fondamenta, quindi dalla base, dall'assetto societario. Infatti, oltre la vecchia guardia presente l'anno scorso, quindi il sottoscritto, Gaetano Castelli, Consolato Pesce e Pippo Rizzo, sono entrate a far parte della struttura societaria quattro locali imprenditori importanti, come Marco Tripoli, Calogero Di Perna, Gaetano Gullotti e il vicepresidente Franco Di Perna. Abbiamo dato anche una riorganizzazione a livello dirigenziale, abbiamo fatto quello che ritengo il nostro miglior acquisto, il nostro direttore sportivo Entonivella, mentre Consolato Pesce sarà il direttore generale, Gaetano Castelli il segretario. Avete attrezzato una squadra che deve stare, secondo me, nei primi tre posti, non deve scendere. Questa noi ci vogliamo divertire, però fra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, non bastano soltanto i nomi, ci vuole la volontà e lo spirito di abnegazione per ottenere i risultati. Noi ci stiamo mettendo i mezzi e le basi, adesso dovremmo riuscire a creare un bel gruppo e portare avanti tutti insieme questo progetto che sta nascendo. Io sono stato coinvolto dal presidente Ivano Mazzamuto in questa società e siccome è giustamente una società molto seria. Mi piace anche il calcio e giustamente facciamo qualcosa anche per il paese, per tutta la città, perché è una bella piazza e facciamo qualcosa per tutto il paese. Sono stato coinvolto in questo gruppo di imprenditori, che a me fa piacere starci. Sono stato coinvolto dal dire presidente Ivano Mazzamuto, soprattutto per lui, perché ci è coinvolto e essendo una persona molto seria abbiamo sposato questo progetto. Speriamo di fare del bene, ma noi, sì, la squadra stiamo cercando di farla per poter ottenere qualche risultato, ma a noi la prima cosa che ci interessa in assoluto è quella della correttezza, della compostezza, perché prima di tutto ci deve essere divertimento e poi se vengono i successi, che benvengano.